Ancora nessuna notizia ufficiale, ma il Cosenza resta il club calabrese più attivo in vista della nuova stagione. Incassati, sì, di direttore sportivo e allenatore, la società è pronta ad ufficializzare anche i primi rinnovi in campo. Poi toccherà decidere lo sponsor tecnico e la sede del ritiro, l'Orica o Camigliatello, le mete più appetibili. Nel frattempo da Roma arrivano notizie che riportano la mente dei Silani al trionfo in Coppa Italia di Lega Pro. Questo perché al vaglio del Consiglio federale una possibile modifica dei playoff promozione che chiama in causa proprio la vincitrice del trofeo tricolore di terza serie. La proposta prevede infatti che per la promozione in via attraverso gli spareggi a scontrarsi siano la seconda, la terza, la quarta e la quinta di ogni girone, ma la peculiarità sarebbe quella di dare diritto di partecipazione alla vincitrice della Coppa Italia se questa non fosse già impegnata in layout o già retrocessa. Questa squadra in tal caso prenderebbe il posto della peggiore quinta fra i tre gironi. Come dire, se questa normativa fosse già entrata in vigore nell'ultima stagione agonistica, il Cosenza, finito ben oltre la zona rossa della classifica, avrebbe potuto partecipare alla lotta per un posto tra i cadetti.